Rivolgiamo alcune domande al dottor Simone Veronese, medico e responsabile della ricerca nella fondazione Faro Onlus. Che cosa sono le cure palliative? Le cure palliative sono un diritto dei cittadini italiani regolato e garantito dalla legge 38 del 2010. Le cure palliative sono nate in Inghilterra negli anni 60 e rappresentano la cura attiva e globale delle persone che sono affette da malattie inguaribili e anche dei loro familiari. L'obiettivo principale delle cure palliative è quello di migliorare la qualità della vita residua dei pazienti e dei loro cari attraverso il controllo dei sintomi, quindi del dolore, ma di tutte le altre problematiche fisiche, gli aspetti psicologici, sociali e spirituali. Le cure palliative considerano la morte come un evento naturale e nello stesso tempo affermano il valore della vita, quindi rappresentano una risposta da un lato all'abbandono terapeutico e dall'altro si oppongono all'accanimento terapeutico. Che cos'è e di che cosa si occupa la fondazione Faro? La fondazione Faro è nata a Torino nel 1983 all'interno dell'ex ospedale San Giovanni Antica Sede per opera della volontà del professor Calciati, del dottor Bertetto e dell'equip di oncologi che lavorava a quel tempo. La domanda iniziale era cosa possiamo fare per quei malati che non possono più guarire e si è capito l'importanza dell'assistenza a domicilio e quindi è iniziato questo servizio inizialmente solo domiciliare attraverso il quale medici e infermieri esperti in cure palliative e poi aiutati da fisioterapisti e psicologi hanno incominciato ad assisterli a casa e dopodiché nel tempo l'assistenza si è estesa, sono aumentati i servizi e al momento siamo in grado di assistere circa 1700 famiglie ogni anno. Il numero sembra elevato, in realtà il bisogno di cure palliative e l'assessorato regionale piemontese ci dice essere molto maggiore, probabilmente intorno ai 9-12 mila famiglie ogni anno e quindi c'è ancora molto da fare. Quali servizi offre la fondazione Faro? La fondazione Faro offre sostanzialmente un servizio di cure palliative specialistiche domiciliare e in hospice. L'assistenza domiciliare dicevamo prima riguarda soprattutto quindi l'assistenza a casa delle famiglie, avviene attraverso una mini equip per ogni paziente con un medico e un infermiere dedicati, la possibilità di avere il supporto psicologico, l'aiuto fisioterapico e quando è necessario anche delle visite specialistiche. Tutto questo avviene in convenzione con le ASL e in alcune aree non abbiamo ancora la convenzione ma il servizio è supportato quindi dalla donazione di enti, di privati attraverso il 5 per 1000. L'ospice invece è un luogo dove vengono curati questi ammalati con un'elevata intensità assistenziale quando le persone non possono stare a casa. È situato presso l'ex ospedale San Vito quindi nella collina torinese, ogni paziente ha una camera singola con i servizi, tutta una serie di comfort dedicati, c'è la possibilità di ricevere visite senza limitazioni di orario, i bambini sono benvenuti in hospice e ci sono strutture come la biblioteca, i terrazzi, la sala del silenzio e poi abbiamo il ruolo dei volontari fondamentale per non farli sentire abbandonati durante l'adegenza. Quali caratteristiche hanno i malati assistiti dalla Fondazione Faro? La Fondazione Faro dicevamo offre servizi di cure palliative specialistiche e la maggior parte dei nostri malati è una malattia tumorale in fase avanzata però da alcuni anni offriamo assistenza anche a malati con patologie neurodegenerative gravi come la slala, la sclerosi multipla, la malattia di Parkinson, le demenze e poi stiamo attivando anche dei servizi per altre patologie non guaribili quali possono essere le patologie polmonari avanzate, lo scompenso cardiaco, la malattia epatica come la cirrosi epatica avanzata, l'insufficienza renale. Però diciamoci la verità la diagnosi è solo uno degli aspetti importanti, quello che noi valutiamo è soprattutto il carico dei problemi dei nostri assistiti. Che cosa vogliamo fare per il futuro? Vorremmo riuscire a offrire cure palliative a tutti coloro che ne hanno bisogno e questo lo possiamo fare attraverso lo sviluppo per esempio delle cure palliative di base insieme alla medicina di famiglia in modo tale che riusciremo a garantire il diritto delle cure palliative a tutti. Affetti collaterali, compagnia teatrale e associazione di promozione sociale, un bel insieme socio-culturale a 360 gradi. Ne parliamo oggi con il presidente Silvia Moretti, attrice, doppiatrice e insegnante di recitazione e con Cristina Robasto, anche lei attrice, doppiatrice e insegnante di teatro. Ciao a tutti. Ciao. Bene, allora, diteci un po', affetti collaterali, quali scopi istituzionali ha? Sì, dunque, gli scopi istituzionali di affetti collaterali sono prevalentemente due. Il primo è la diffusione della cultura ad ampio spettro e il secondo è l'integrazione sociale. Bene, e quali tipologie di spettacoli porta in scena? Sì, noi amiamo spaziare, quindi facciamo un po' di tutto. Principalmente commedie brillanti, ma anche commedie classiche, soprattutto per quanto riguarda gli spettacoli che facciamo per le scuole, dei musical, spettacoli per bambini e anche dei gialli a volte. Affetti collaterali svolge anche altri tipi di attività artistiche, quali sono? Sì, allora facciamo reading, quindi delle letture che possono essere normali letture a leggì oppure letture accompagnate da musica, canto, poi le cene con delitto che possono essere fatte sia nei ristoranti sia anche nelle case, per esempio c'è capitato di fare delle cene con delitto in villa, poi spettacoli di cabaret, quindi delle animazioni, oppure animazioni anche per i bambini, quindi feste di compleanno, cerimonie. E poi facciamo anche i corsi di teatro, teatro, uso della voce, edizione, quindi amiamo insomma insegnare e proporre tutto quello che è divertimento e teatro appunto. Una cosa molto importante, affetti collaterali, è anche integrazione sociale e da qualche tempo sta portando in giro nella regione Piemonte un progetto molto importante. Esatto, sì, il nostro progetto innanzitutto si chiama Teatrabile, risale a quest'ultimo anno e siamo riusciti a realizzarlo soprattutto grazie all'aiuto di una importante fondazione della regione Piemonte, che ringraziamo. Questo progetto riguarda la nostra visione dell'integrazione in un modo del tutto particolare, noi siamo riusciti a portarla addirittura sul palco, i nostri spettacoli infatti prevedono un cast in cui un attore ha una disabilità, in particolare la cecità, che è una disabilità molto particolare per un attore, potete capire la difficoltà di una persona non vedente a rapportarsi con uno spazio teatrale. Questo attore però naturalmente è inserito in un cast di normodotati e si comporta come loro, quindi il bello dello spettacolo è la, come dire, la difficoltà dell'individuare l'attore non vedente. Infatti alla fine dello spettacolo noi facciamo un piccolo gioco con i nostri spettatori e chiediamo di individuare il non vedente sul palco. Il vincitore, se riesce ad indovinare, vi assicuro che non è assolutamente semplice, vince un premio. Bene, progetti futuri per affetti collaterali? Tanti, si spera, tanti sempre di più, soprattutto grazie all'appoggio che abbiamo dalla circoscrizione 8, dalla Regione Piemonte, da Motore di Ricerca. Speriamo di continuare nel nostro percorso di teatro, di integrazione. Speriamo di poter continuare le nostre attività, soprattutto l'attività di integrazione e vi invitiamo a curiosare sul nostro sito che è www.affetticollaterali.it Lì potrete trovare tutti i nostri spettacoli realizzati, quelli in corso, i nostri corsi di teatro e tutto quello che facciamo, insomma, le nostre foto, i nostri video. Quindi curiosate pure e vi aspettiamo numerosi. Ringraziamo Silvia Moretti, presidente della compagnia Affetti Collaterali e l'attrice Cristina Robasto e vi invitiamo tutti agli spettacoli e alle attività artistiche di Affetti Collaterali. Buongiorno a tutti, sono Federico Maggiora, il presidente dell'Accademia di Progettazione Sociale Maurizio Maggiora, una nuova associazione che sostanzialmente dal 2013 è nata per cercare di favorire questo tipo di progettazione, che è proprio quella di progettare di impatto sociale per i ragazzi dai 18 ai 35 anni. Non siamo di fatto un'associazione, un'agenzia formativa meglio, ma siamo una realtà che ha voluto costruire un vero e proprio modello di sviluppo delle risorse umane per dare la possibilità al ragazzo di conoscere questa nuova figura che è il progettista e poter iniziare un cammino verso uno sbocco professionale o comunque uno sbocco anche di un nuovo mestiere che è appunto quello del progettista sociale. Parliamo di innovazione sociale, stiamo facendo tre step. Il primo step è quello di un percorso formativo o comunque esperienziale, incentrato sul mentoring. Il secondo step è il ragazzo ha la possibilità di entrare in associazione e quindi mettere in pratica quello che ha appreso durante la prima esperienza col mentor. E' un terzo step che stiamo diciamo approntando quest'anno è quello di borse lavoro o tirocini che possano servire ai ragazzi per inserirsi sia nelle organizzazioni del terzo settore e sia anche in quelle che possono essere aziende interessate a questo tipo di tema. Oggi abbiamo voluto invitare qui con noi la dottoressa Orestano che è l'amministratore delegato del centro per l'innovazione sociale Social Fair che è un nostro partner ormai fin dall'inizio della nostra avventura proprio per parlare con lei del significato di innovazione sociale in rapporto con la progettazione e anche se vogliamo questo nuovo mestiere del progettista che può essere un'opportunità per i giovani. Laura, possiamo parlare di innovazione sociale insieme alla progettazione, insieme a questi nuovi mestieri del progettista? Come questi tre fattori si amalgamano insieme appunto? L'innovazione sociale come sai Federico è innovazione così come descritta dall'Unione Europea è innovazione di prodotti, di servizi, di modelli per fornire appunto soluzioni innovative alle più pressanti sfide sociali. Che cosa significa? Significa che sempre di più bisogni nuovi, contesti nuovi ma anche comportamenti nuovi necessitano di nuovo approccio, di una nuova lente attraverso la quale andare a sviluppare delle soluzioni. Soluzioni che all'interno dell'innovazione sociale sono soprattutto soluzioni di impresa, impresa a impatto sociale. Per fare tutto questo noi come Social Fair e quindi come Centro per l'innovazione sociale e anche insieme ai nostri partner andiamo a definire degli step importanti nell'accompagnamento di quello che è l'impresa ma anche nel coinvolgimento di una popolazione più ampia, di beneficiari più ampi affinché possano essere esposti ad una strumentazione che è comunque nuova. Quindi la progettazione sociale in questo senso ricade per noi all'interno di questa strumentazione nuova, di questa strumentazione di contesto, di questa strumentazione anche che intende a coinvolgere le persone nella progettazione. Coinvolgere infatti le persone nella progettazione, coprogettare come viene definito, come si definisce oggi uno degli step importanti dell'innovazione sociale è un primo passo di coinvolgimento non solo dello specialista che vuole sviluppare innovazioni a impatto sociale ma anche del beneficiario. Quindi la coprogettazione e la progettazione a fini di impatto sociale sono degli strumenti importantissimi se vogliamo raggiungere non solo conoscenza ma anche qualificazione della domanda e soluzioni che siano veramente sostenibili in termini appunto di impresa e impatto sociale. E proprio questi elementi che sono la coprogettazione, la modellizzazione e sostanzialmente anche una sostenibilità rivolta a generare impatto sociale sono un po' il contenuto che in Accademia si cerca di insegnare, di far vivere ai ragazzi tutto gratuitamente. Quindi il ragazzo non ha nessun costo per iniziare a questo tipo di percorso e questo modello innovativo che abbiamo voluto realizzare grazie allo sforzo di 40 volontari perché noi siamo totalmente volontari e riteniamo che possa essere un grandissimo valore soprattutto per il ragazzo e per la comunità. La Collina degli Elfi è un'associazione di volontariato nata nel 2008 che ha come obiettivo quello di organizzare e gestire un centro per famiglie con bambini malati di cancro in remissione di malattia. È un centro che si trova a Govone tra la provincia di Asti e la provincia di Cuneo in un ex convento che abbiamo ristrutturato. Abbiamo ristrutturato grazie alla partecipazione di tante persone che insieme hanno deciso di condividere questo grande progetto. È un progetto che è partito proprio come progetto dedicato alla famiglia e per aiutare la famiglia a superare questo momento difficile che è il momento della malattia. La malattia oncologica pediatrica nei paesi occidentali purtroppo è in aumento però le cure ormai portano sempre di più verso una prognosi favorevole. La Collina nasce proprio per aiutare le famiglie ad elaborare diciamo il percorso di malattie e di sofferenza perché quando si ammala un bambino si ammala tutta la famiglia. La Collina degli Elfi dà un supporto per recuperare il senso della vita, il senso della gioia, il senso della speranza sia ai bambini che alle famiglie offrendo una vacanza che non è solamente una vacanza come si intende di solito ma in questa vacanza noi offriamo proprio un percorso attraverso attività terapeutica, attraverso la pet therapy, attraverso attività mediazione corporea dove i bambini si ritrovano tra di loro, le famiglie per cui è un approccio globale a tutta la famiglia compresi eventuali fratelli e sorelle. Il senso è proprio questo, dare alle famiglie la possibilità di vivere un'esperienza dove possano recuperare il senso della vita, il senso della speranza e andare oltre il percorso doloroso della malattia. Insomma ridare l'infanzia a chi l'ha perduta. La Collina degli Elfi è un centro aperto a tutte i bambini e tutte le famiglie di tutta Italia ed è aperto a bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni e la Collina degli Elfi si regge sul volontariato quindi esiste grazie a 150 volontari che dedicano il loro tempo, il loro impegno, il loro lavoro e il loro cuore. 150 persone che dedicano questo tempo per queste famiglie e aiutano queste famiglie a avvicinarsi e a recuperare anche quella dimensione relazionale e quella dimensione sociale che molto spesso poi la malattia va a ridurre. La Collina degli Elfi quindi esiste grazie al cuore di tante persone e in realtà 150 volontari sono tanti ma non sono ancora abbastanza per cui noi siamo sempre alla ricerca di nuove persone che con noi vogliano regalare un sorriso alle famiglie che hanno vissuto un momento così difficile, ai bambini che hanno vissuto un momento tragico come quella della malattia. Inoltre la Collina degli Elfi proprio perché l'associazione di volontariato si regge sulle donazioni, sulle donazioni delle persone che desiderano con noi condividere questo grande sogno e desiderano aiutare queste famiglie regalando loro il soggiorno alla Collina. Ci sono tantissimi modi per aiutarci e sicuramente per chi desidera aiutarci, aiutare un bambino a recuperare la sua infanzia, aiutare un bambino a sorridere, aiutare dei genitori a recuperare la serenità che è legittima, beh allora basta andare sul nostro sito www.lacollinadeglielfi.it oppure cercarci su Facebook, questo permetterà di sapere che cosa facciamo e questo vi permetterà di avere gli aggiornamenti. Buongiorno, sono Stefano Ardagna e sono il Presidente della Camera Minorile di Torino. Io sono Bianca Maria Biancardi Moschella, referente del tavolo interistituzionale interprofessionale Tutti in Rete. Ed è proprio di Tutti in Rete che vogliamo parlarvi oggi. Tutti in Rete è un tavolo interistituzionale, interprofessionale, formalizzato a Torino nel febbraio del 2009 con un protocollo di intesa al fine di promuovere nella società una cultura della tutela delle persone di minore età nel rapporto con i mezzi di informazione. I firmatari del tavolo, oltre alla Camera Minorile di Torino, sono 18 enti, istituzioni, associazioni di alto profilo con competenze specifiche in tema di diritti dei minorenni. La peculiarità del tavolo è che ciascun componente si sente parte attiva di una rete intesa come qualcosa che non ha vertice, dove non c'è nulla di dirigistico, ma dove tutte le persone si sentono coinvolte e connesse paritariamente tra loro. Tra gli obiettivi del tavolo c'è un interesse particolare nei confronti dei ragazzi affinché sviluppino un senso critico e responsabile nei confronti delle notizie che li riguardano. Ad esempio devono sapere che i loro dati personali, le loro immagini non possono essere pubblicate, così come essi stessi non possono diffonderle. A maggior ragione il tavolo si rivolge agli adulti che proprio per la loro intrinseca capacità e responsabilità educativa hanno il compito, anzi io direi il dovere di salvaguardare la privacy dei ragazzi. Purtroppo i richiami alla deontologia professionale non sempre vengono accolti o rispettati e talvolta leggiamo o vediamo le immagini dei ragazzi coinvolti nei fatti di cronaca, a cui magari vengono anche attribuiti dei nomi di fantasia ma poi vengono descritti in modo preciso, minuzioso, i contesti in cui vivono, la scuola che frequentano, le case dove abitano da rendere immediatamente identificabile il protagonista o la protagonista di quel fatto di cronaca. Ed è proprio per questo che tra le attività svolte dal tavolo spiccano eventi, incontri di studio, iniziative che sono rivolte sia all'opinione pubblica in generale che con particolare attenzione ai ragazzi stessi. Su questo versante della scuola in cui tutti in rete investe molte risorse, umane ovviamente, grazie al supporto pieno del MIUR, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, è stato diffuso in tutte le scuole della nostra regione un concorso minorenne e media che ha avuto una grande risonanza e dal quale abbiamo ricevuto prodotti le risposte delle scuole veramente entusiasmanti anche per noi. I video, dei poster che saranno stati premiati nell'ambito del Salone del Libro edizione 2015 e che saranno anche ospitati sul nostro sito che sta per essere definito. Quest'anno l'edizione 2016 del Salone del Libro ha di nuovo visto tutti in rete ospite dello stand del MIUR al Salone del Libro per la gioia di poter presentare un opuscolo edito dalla scuola, una delle tre scuole vincitrici del concorso, con la ricaduta, una grande ricaduta positiva sul territorio perché hanno coinvolto il territorio, le famiglie che sono grandi, un nostro grande alleato per poter contribuire in questa cultura dell'informazione e del rispetto dell'infanzia e anche in questo caso abbiamo avuto il riscontro che un'azione culturale infaticabile, costante, che si serve non solo degli adulti ma anche e soprattutto dei ragazzi è vincente, si tratta solo di investire tutti insieme risorse e tempo in questa direzione. Sempre sul nostro sito potrete consultare anche l'edizione online della nostra ultima pubblicazione che fornisce contributi sicuramente preziosi per una cultura del rispetto delle persone di minore età.